Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo, signori, e oggi iniziamo una nuova serie, una nuova serie, sempre su Xpro Evolution Soc 2, signori, sarà una serie diversa, non sarà la Master League, ma bensì ci andremo a giocare il mondiale, il mondiale, sì signori, voglio fare una cosa diversa, nell'attesa di iniziare nuove serie, nuove idee, eventualmente datemi consigli su eventualmente qualche gioco che volete portato. Mettiamo in pausa un attimo il Livorno, che qualche mese fa avevamo iniziato la serie sul Livorno, qui è partita la clip senza che gli avessi detto niente, sì, va bene, Pro Evolution Soc 2, fai tutto quello che vuoi tu. Ok, niente, il gioco fa cose sue. Signori, oggi inizieremo a giocare? Sì, forse ci arriviamo a fare la prima partita, o forse anche no, non lo so, vi lascio col dubbio perché dobbiamo iniziare questa nuova serie. Cosa avrà di particolare questa serie, signori, non so se già il titolo avrà spoilerato o qualche cosa, ma iniziamo il mondiale, signori, modalità coppa, iniziamo la coppa, nuova partita, allora iniziamo la coppa internazionale, signori. Faremo la coppa internazionale, coppa internazionale, ok, informazione delle fasi girali, una squadra 32, in casa trasferta no, durata l'incontro 10 minuti, mi sembra che noi giochiamo con le partite 10 minuti, sì. Difficoltà mettiamo normale, signori, perché fondamentalmente io voglio... giochiamo per divertirci, signori, quindi è vero che la stagione con l'Inter la stiamo facendo in modalità difficile, però io non gioco da un bel po', quindi ripartiamo dalle basi. Modalità normale, numero giocatori 1 su 32, aggiudicato, aggiudicato. Quale squadra andiamo a prendere? Anche qui non so se il titolo già avrà spoilerato o qualche cosa, signori, ma ci andremo a fare il mondiale con il Giappone. Il Giappone dove cazzarolo possiamo andare a piazzare? Non lo so, facciamo una ricerca, una cosa casuale, così lo piazziamo nel gruppo G di Giappone, signori, G di Giappone al terzo posto. L'andiamo a mettere lì? Sì, ho deciso, l'andiamo a mettere lì, dopodiché il resto faremo tutto casuale. Ok, ok, si sono formati i gironi, vediamo un attimino se questi gironi mi fanno cagare oppure no. Scegli nuovamente, sì, signori, perché vedo che non c'è la Spagna, è fuori e questa cosa non va bene. L'Argentina è dentro, il Brasile è dentro, la Germania è dentro, il Belgio è dentro, la Francia è dentro, l'Italia è dentro. Sì, mi manca solo forse la Francia come squadra più... la Francia, l'Olanda, quindi direi che possiamo levare, penso, sì, l'Arabia Saudita. No, voglio... chi cazzarolo ha levato? Il mio Giappone? No, rimettimi subito il mio Giappone, no. Scegli nuovamente, che cazzarola dici? Andiamo a levare l'Arabia, che la devo trovare prima da qualche parte, no cazzarola è, questa, leviamo l'Arabia e mettiamo la Spagna. Perfetto, e poi andiamo a levare anche... che altro allora possiamo levare? Possiamo levare? Va bene, niente, l'Olanda non si è qualificata, signori, l'Olanda non ce la mettiamo. Il Peru, leviamo il Peru, signori, mi dispiace per il Peru, ma andiamo a levare il Peru. Eh... il Peru si qualificherà l'anno prossimo, se lo riesco a trovare qua nella lista, leviamo il Peru, perfetto, e andiamo a mettere l'Olanda. Piazziamoli l'Olanda. Allora, vediamo un attimino i gironi. I gironi vedono Irlanda, girone A con Irlanda, Cile, Spagna e Belgio. Ok? Un bel girone A molto molto interessante. Girone B con Tunisia, Sud Africa, Olanda e Stati Uniti. Cioè l'Olanda si qualifica a mani basse, signori. Qua in teoria io vedo Spagna e Belgio, che passano il turno, qua dovrebbe passare il turno l'Olanda. Gruppo G, gruppo C, scusatemi, con Francia, Slovenia, Bulgaria e Giamaica. Ok? Ok. Gruppo D con Austria, Ucraina, Norvegia, scusatemi, sono un attimo bloccato che mi si è spento un attimo il cervello, Norvegia e Germania. Gruppo E con Egitto, Portogallo, Danimarca e Camerun. Gruppo F con Brasile, Ungaria, Messico e Grecia. Anche qui il Brasile avrà vita facile praticamente. Gruppo G, il nostro, quello che ci interessa, con Slovacchia. Cina, attenzione, Giappone, la nostra squadra a segnare il Giappone e Paraguay. Quindi, un girone combattuto, signori. Siamo finiti con un girone combattuto, che se ce lo giochiamo bene possiamo passare il turno. E l'ultimo turno, l'ultimo girone, il girone H con Argentina, Romania, Italia e Nigeria. Cazzo dall'Italia è capitata proprio male. Però, però va bene, non, 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 ce ne frega poco e va bene così. Rimettiamo la Nigeria al suo posto, signori, la mettiamo qua e proseguiamo con l'inizio di questo mondiale. Proseguiamo con l'inizio di questo mondiale, signori, schermatini all'iniziale. Carina, io alzo un pochino l'audio perché non sento niente io, pensate voi. Ok, signori. Oh, perfetto. Primo turno, abbiamo tutte le partite belle messe lì. Irlanda, Cile, Spagna, Belgio. Il primo turno, ok. Ok. Questa è la classifica dei gironi, che andiamo a vedere partita dopo partita. Perfetto, noi siamo nel girone G, ok. Perfetto. E questo è il calendario. Proseguiamo, andiamo avanti, signori. Andiamo avanti. Procedi all'incontro successivo. Dai, così. Ma scendiamo già subito in campo? Così, subito a... 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 a timpulata, proprio. Sì, signori, scendiamo in campo per la prima partita. Prima partita, signori. Così, subito, veloce, senza... senza perdere tempo. E ora qui la sorpresa, signori. La sorpresa. Andiamo a vedere la formazione di questo Giappone. Che schiera in campo, signori? In porta Benji Price. Difesa... i tre di difesa con Bob Denver, Cliff Odryuma e Bruce Harper. Va sistemato un attimino, signori. Io ho sistemato semplicemente i nomi, ma la formazione va un attimo riorganizzata. A centrocampo abbiamo Philip Gallaghan e Danny Mello davanti alla difesa. Due esterni di centrocampo come Jason Derrick e James Derrick. Oliver Atton, trequartista. Mark Landerson e Tom Baker in attacco, signori. Ma le sorpresse non finiscono qui. Abbiamo anche alla panchina, signori. Abbiamo la panchina con Rob Peterson, Charlie Custer, Jason Morris, Julian Ross, Paul Diamond, Sandy Winters, Ted Carter, Patrick Everett, Rob Denton, Jack Mason... Johnny Mason, scusatemi, ed Ed Warner, signori. Ed Ed Warner, sì. Allora, io ho creato questa formazione. Sicuramente ci sarà qualcuno che gli usciranno il sangue dalle orecchie, praticamente, perché magari i ruoli non sono giusti, signori, ma mi sono dovuto adeguare. Non potevo mettermi lì a cambiare troppe cose, perché troppa, troppa, troppa confusione, signori. Quindi, troppo tempo da perdere, la cosa non era fattibile. Andiamo però a sistemare questa formazione. Eh, sì. Andiamo a mettere un... Allora, fermi tutti. Noi abbiamo tre di difesa, quindi in difesa devono stare in tre. Perfetto. Così potrebbe essere interessante. Così no. Sennò così potremmo mettere Olly in avanti. Olly in avanti, due dietro e i due sugli esterni. Potrebbe starci... No, preferisco giocare così, signori. Sì. Voglio giocare così. Voglio giocare così. Cambia giocatori? No. Philip Callaghan è qui e Danny Mello è qui. I gemelli d'Eric sulle fasce. Olly Atton, Mark Lenders e Bob Demme. Eh, sì, e Tom Baker. Signori, ci siamo. Prima partita contro il Paraguay, che schiera Shilavev, Gamar, Ayala, Canissa, Arse, Acugna, Enzizio, Paredes, Quintama, Cardoso e Santa. Signori, scendiamo in campo. Chi se ne frega. Decisi. Questo video durerà tre ore, sì. Allora, cosa importante. Io ho semplicemente cambiato i nomi, signori. I giocatori sono quelli vecchi del gioco, quindi faremo proprio schifo alla base. Ci sarà proprio un problema di schifaggine alla base. Ma a noi non ci interessa, signori, perché il Giappone vincerà questo mondiale. Il Giappone con Oliver Atton, che già non si fa vedere Olly e questa cosa. Attenzione, Philip Callaghan recupera subito il pallone per Tom Baker. Tom Baker vede Atton. Atton cerca la profondità per chi? Per Mark Lenderson, ma non ci riesce. Attenzione. Sua difesa. Philip Callaghan tenta un intervento, ma all'intervento non riesce. Bob Denver in difesa. Bob Denver! Il traversone centrale, grandissimo. Il pallone arriva Atton. Atton che la gira per Derrick. Derrick che non ci arriva. Mannaggia, attenzione. Riparte il Paraguay. Riparte il Paraguay. Attenzione, dobbiamo chiudere in difesa. Dobbiamo chiudere in difesa. Bruce Harper scivola. Ma Price la para. Bruce Harper è rascivolato senza nessun motivo. Rilancio di Price che cerca. Tom Baker. Tom Baker la para arriva a Mello. Mello per Baker. Baker per Atton. Atton per Lenders. Che si chiara lo spazio, Lenders. Non riesce alla conclusione. Mark Lenders. Attenzione, il Paraguay riparte in velocità. No, non sta ripartendo in velocità. Attenzione, brutto l'intervento. Attenzione, in difesa il Paraguay. Il Paraguay ci prova. Attenzione, Derrick in difesa. Spazza via, non mi ricordo chi. Attenzione, recuperiamo la palla con Danny Mello. Danny Mello, Tom Baker. Tom Baker, Tom Baker, Tom Baker. Accelera Tom Baker. Grandissimo Tom Baker. Chiede l'1-2 a Mark Lenders. L'1-2 arriva. Non arriva. Mannaggia. Attenzione, stacco di testa ancora. Alla palla che arriva Jason Derrick. Allora, da questa parte c'è Jason. Da quell'altra parte c'è James. Va bene? Pallone sbagliatissimo. E il Paraguay riparte. Il Paraguay riparte il Giappone. Non riesce a difendersi. Bruce Harper. Di testa ancora lui. La spazza via. Grande Bruce. Danny Mello in copertura. Danny Mello, Danny Mello, Danny Mello, Danny Mello. Danny Mello sta coprendo il lato sbagliato. Il cross del Paraguay. Attenzione, il pallone che arriva Atton. Atton che cerca Tom Baker. Tom Baker, Tom Baker, Tom Baker. che cerca Mark Lenders. Mark Lenders per Jason Derrick. Derrick, Derrick perde il pallone. Perde il pallone. Abbiamo detto chi cazzo lo ha certo da quell'altro. Non me lo ricordo. Attenzione, l'1-2 Clifford to the Human. Human, human, human. Chiude l'attenzione. Grandissima azione del Paraguay. Un po' in sofferenza. Il Giappone che ancora deve prendersi un attimo le misure. Attenzione, James Derrick. Forse già gli ho scambiati. I gemelli Derrick, il Derrick 2. Ecco, chiamiamoli così. Derrick 1 e Derrick 2. Attenzione, Derrick. Derrick guadagna un fallo. Fallo guadagnato. Pallone giocato al centro. Baker, Baker che cerca Lenders. Che cerca il tiro della Tigre. Ma non li riesce. Grande recupero di Philip Gallaghan. Gallaghan per Mello. Mello per Derrick. Derrick per Baker. Baker, 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 Baker. Pallone per Mello. Mello per Lenders. Lenders! Prova ancora il tiro della Tigre. Ma non riesce. Guadagna però un calcio d'angolo. Attenzione, Atten. Atten per Callaghan. Callaghan riesce a girarsi. Philip Gallaghan! Il tiro! Ma la palla finisce sul fondo. Ci prova Philip. Grande azione qui del Giappone. Che cerca. Cerca! La conclusione. Attenzione ancora il Paraguay. Confusione in difesa. Confusione in difesa. Nessuno va a chiudere. Ma Benji Pryce è alto un metro di una tic-tac praticamente. Se abbiamo un problema con Benji Pryce, signori. Dovevo... Effettivamente forse lui lo avrebbe dovuto modificare. Porca miseria. Che brutto pallone. Però la palla arriva a Jason Derrick. Derrick per Lenders. Lenders! Sbaglia completo. Errore. Ma il passaggio di testa perfetto per Danny Mello. Mello che cerca James Derrick. James Derrick che parte sulla fascia. Derrick, 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 Derrick. Derrick! Attenzione! No! Stava arrivando il pallone. Messo fuori. No! Il pallone rimane dentro. Il pallone rimane dentro. Attenzione! Bruce Harper in chiusura. Bob Denver. La spazza via. Colpo di testa ancora. Ancora il colpo di testa. Attenzione! Il Giappone non riesce. Bravissimo! Derrick 1. Derrick 1 grandissimo in questo recupero di palla. Che cerca Atton. Atton un po' fuori dai giochi. Attenzione! Forse ancora dovuto... Forse ancora non è in forma per l'infortuna alla spalla. Attenzione! Ancora! Baker! Baker! Attenzione! La palla è buona! La palla è buona! Atton! Non ci crede Oliver. Oliver non ci crede. Forse ancora fastidio alla spalla per Oliver. E qui... No! No! Erroraccio difensivo! Erroraccio super difensivo! Super erroraccio difensivo. Attenzione! Però il Giappone riesce a spazzare via la palla. Atton comunque si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. Derrick. C'è lui su quella fascia. Cerca qualcuno con cui scaricare. Però la palla finalmente arriva a Calagan. Che non riesce nel movimento. Attenzione! Clifford Yuma la recupera. La recupera lui. E 1-2 veloce. Calagan. Calagan l'uomo che è andato più vicino al gol fino a questo momento del Giappone. Perché comunque anche il Paraguay ha avuto una buona occasione. Ci riprova adesso. Al quarantesimo. Attenzione! Pallone aperto sulla fascia per Derrick. Derrick che cerca! Bravo! Però qui Calagan ancora il migliore fino a questo momento di questo Giappone. Attenzione! Ancora Lenders! 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 Lenders per Tom Baker. Tom Baker! Tom Baker! Vede l'inserimento di Derrick! Vede l'inserimento di Derrick! Parte il traversone! Lenders! No! Atton! Mannaggia la miseria! Il Giappone è vicinissimo al gol del vantaggio. Vediamo se riusciamo a recuperare sto pallone. Non ci riusciamo. Mannaggia di Pippo! Attenzione sì, adesso ci riusciamo in Giappone. Il Giappone con Denimello. Denimello per Atton. Atton, 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 Atton. Cerca Derrick. Derrick che cerca... Che cerca... Vediamo se c'è l'inserimento... C'è l'inserimento di Tom Baker! Che però non riesce a portare a casa un buon inserimento. Mannaggia! Comunque finisce il primo tempo, signori. Giappone-Paraguay 0-0. Tre tiri a due. Non cambia niente, signori, in questo momento. Stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. Insomma, dobbiamo ancora trovare la quadratura di squadra. Dobbiamo ancora trovare la quadratura di squadra. Ruba la palla. Ruba la palla, ma la restituiamo al Paraguay. Attenzione ancora. Gemello Derrick, attenzione. Callaghan. Philip Callaghan perde il pallone. Attenzione, questo pallone al centro è bruttissimo. Ma Bob Deber. Sontuoso. Recupera il pallone per Atten. Atten, Atten, Atten che al centrocampo cerca di liberarsi. Ci riesce. Atten, Atten la palla aperta per Derrick. Attenzione, Derrick. 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 Entra in aria. Derrick. Cosa ci ha mangiato? Il Derrick 2. Ma porca miseria. Giappone vicinissimo al goal del vantaggio con Jason Derrick. Allora, questa parte ci mettiamo Jason... Attenzione, Atten. Atten, 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 Atten ancora. Atten, Atten, Atten. Oh, nannaggia. Ho tentato l'1-2, signori, ma non mi è riuscito. Atten non ha capito l'input. L'input, signori. Grandissimo. Qui recupera ancora Atten, 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 Atten. A spazio. Oliver Atten. Oliver Atten cerca di muoversi. Per Jason Derrick. Per... Oh, attenzione, attenzione. No, dai, perdere due volte il pallone così. No, però, cazzarola di una misa è bravo. Clifford Yuma. Mostruoso Clifford. Atten, 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 Atten per Derrick. Che è lento, è lento Derrick. Il Derrick 2 è lento, il Derrick 2 è lento. Attenzione, buono. Qui il recupero di palla. Palla che arriva ancora Atten. Atten, Atten che cerca Lenders. Lenders, Lenders, Lenders. Lenders, Lenders che cerca Atten, Atten che cerca Tom Baker. Che riesce a girarsi, mannaggia. Perde l'attimo Tom Baker. Attenzione, 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 attenzione. Fuori gioco, per fortuna, del Paraguay. Buona la copertura di... Non so chi. Pallone buttato sotto. Pallone sotto, non pensiamoci più. Pallone che arriva verso Atten che riesce a colpire le testa. Buono il passaggio per Lenders. Lenders, mannaggia, sbaglia completamente Lenders. Giocala lì, giocala lì. Ok, mello, mello, mello. Con calma per Derrick. Derrick che cerca di allargarsi. Derrick, Derrick, arriva sul fondo. Parte il traversone. Il colpo di testa. Colpo di testa di Mark Lenn... No, di Tom Baker. Colpo di testa di Tom Baker che però finisce fuori dallo specchio della porta. Attenzione, ancora. Il Paraguay ci prova. Brutto intervento al centrocampo. E arriva il giallo per Jason Derrick. Sono entrambi Jason. Il portiere la basce. Sheila Vert batte la punizione. Attenzione. Subito, 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 subito. Lancio lunghissimo del Pryce che cercava di sorprendere. Attenzione, però. Vediamo se ora il Giappone riesce a riconquistare il pallone. Sì, ci riesce con Denimello. Denimello che cerca Atten. Atten, 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 Atten. Lancia benissimo Mark Lenders. Mark Lenders. Mark Lenders. Palle sul palo. Tom Baker. No. Non ci posso credere, signori. Cosa ci siamo mangiati. Cosa si è mangiato Mark Lenders, signori. Cosa si è mangiato Mark Lenders. Non ci posso credere, non ci posso credere, signori. Cosa ci siamo riusciti a mangiare. Cosa ci siamo riusciti a mangiare, signori. Porca miseria. Cosa ci siamo riusciti a mangiare. Attenzione. Oliver Atten. No. Al ventisettesimo. Ventisettesimo. Grandissima azione. Oh, me la dai? Mi dai un personaggino, cazzarolla di una miseria. Lancia la sotto. Benji Price. La lancia sotto alla ricerca di un compagno. Riesci in qualche maniera a trovare Mello. Mello per Atten. Atten, Atten, Atten. Uno, due con Tom Baker. No, era Mark Lenders. No, era Tom Baker. No, era Mark Lenders. Attenzione, ancora. Attenzione, ancora, ancora. Sto perdendo. Sto perdendo. Oh, riesce a intercettarla Derrick. Derrick, Derrick, Derrick. Il pallone torna indietro. Il pallone torna indietro. Il pallone torna indietro. Grandissimo. L'intervento di Derrick. L'intervento di Derrick. Pallone rimesso sulla fascia. Attenzione. Buono. L'intervento di Bob Denver. Bob Denver che... No. Bomber mio. Bob mio. Cazzarola di passaggio fai. Bob mio. Grande. Guadagno un fallo. Si butta a terra palesemente. Buttala sotto. Non pensare minimamente a passarla lì vicino. Bravo. Bravissimo. Mark Lenders. Che cerco. Mannaggia in un inserimento che era buono. Lenders è riuscito a fare un grande stop. No. No. Bruciato così. Harper. Harper per Derrick. Derrick che vede Bob Denver. Che vede Tom Baker. Tom Baker che vede Derrick. Derrick che vede Lenders. Lenders che riesce a liberarsi. Lenders la crossa. Al centro. Mannaggia. 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 Questo Giappone crea tanto ma non riesce a... Sfruttare bene le occasioni. Attenzione. Philip Callaghan. Philip Callaghan. Per Mark Lenders. Lenders. Lenders riesce a girarsi. Lenders lancia Derrick che però è lento. Bellissimo l'inserimento. Ma bellissima l'intuizione e l'idea. Ma non ha funzionato. Attenzione. Tom Olliatton si fa superare. Si fa rubare il pallone. Attenzione. Attenzione al Paraguay. Attenzione al Paraguay. Ultimazione. Ultimazione al Paraguay. Tiro. Benji Price la para. E la lancia subito sotto. Per l'ultima azione del Giappone. Il pallone arriva a... Philip Callaghan. 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 No. Peccato signori. Sbagliato di pochissimo questo passaggio in profondità di Philip Callaghan. E finisce 0-0 l'esordio mondiale del Giappone di Olli e Benji. Doviamo impegnarci di più nelle prossime partite signori. 6 tiri a 6. Dovremo impegnarci di più nelle prossime partite. Ci riusciremo? Lo spero. Lo spero. Lo spero. Di sicuro. Le altre partite come sono andate? La Slovacchia ha battuto la Cina. Aia. Ricordiamo che passano le prime due. Però signori. Dobbiamo impegnarci. Dobbiamo impegnarci a fare bene. L'Italia e l'Argentina hanno vinto. La Spagna ha vinto. E invece il Cile ha pareggiato con l'Irlanda. La Tunisia e gli Stati Uniti hanno vinto. Attenzione. L'Olanda è andata a perdere contro... Vabbè. Questo signori lo vedremo nel prossimo video. Perché già questo video sta durando un casicchio. Detto questo signori. Io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like. Per i commenti. Per i studenti e per il supporto. E spero che questa serie vi possa piacere. Fino al raggiungimento. Speriamo. Della finale con il Giappone. Detto questo signori. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella raga. Ciao.